Venerdì 8 giugno alle ore 20 si terrà presso il Circolo Acli di Badia Alpino una cena di solidarietà promossa dall'Associazione Aretina Africa Amica nell'ambito del progetto Mother Wedding House, nascere in sicurezza per sostenere le donne partorienti a Cabala in Sierra Leone. Sì, è un'iniziativa che abbiamo preso insieme con iniziative analoghe che svilupperemo durante l'anno per sostenere questo progetto che ha avuto l'approvazione da parte della Regione Toscana nell'ambito della cooperazione sanitaria internazionale e anche con una quota contributiva da parte della Regione che naturalmente non copre tutti i costi del progetto per cui ecco il senso di questa iniziativa alla quale chiediamo la partecipazione non solo di amici e soci dell'associazione stessa ma anche di tutti coloro che in qualche modo si sentono vicini a forme di solidarietà di quelle che stiamo elaborando noi. Ricordiamolo, Africa Amica da alcuni anni è impegnata nella raccolta fondi a favore della Sierra Leone, uno dei paesi più poveri dell'Africa. Sì, la Sierra Leone è, come ha detto lei, uno dei più poveri al mondo, credo che sia lo 185esimo posto nella classifica ONU, questo la dice lunga, sulle condizioni di questo paese che peraltro ha attraversato momenti drammatici, guerre, fratricide e per ultimo anche Ebola che nel 2014-2015 ha ammietuto migliaia di vittime. Noi siamo impegnati in questo paese da ormai 15 anni dove abbiamo realizzato iniziative soprattutto nel settore educativo ma anche nel campo sociale e sanitario. Il progetto che stiamo portando avanti adesso è quello che riguarda la salute materno-infantile per favorire e secondare l'accesso delle donne, che sono pochissime attualmente, che si avvalgono delle prestazioni ospedaliere in presenza di parto. Quindi un fatto importante sul piano sanitario ma anche sul piano sociale per favorire la promozione umana e sociale di quel paese. Grazie a tutti.